Ragazzi, purtroppo sono costretto a fare questo video e mi dispiace, però vi devo dire una bella cosa. Allora, innanzitutto, questo video dovevo farlo molto meglio e purtroppo non ho il tempo, perché guardate qui che casino, raga, devo sistemare tutto. Quindi, raga, purtroppo, scusatemi se è uscito questo shorts, vediamo se riesco a farlo uscire shorts, comunque non sarà un video né editato né niente. Qual è però la novità, ragazzi? Allora, intanto, mi scuso per i giorni che passano, perché questo canale lo sto un pochino così, lo sto riposando, però qual è la novità? La novità è che mi è arrivato questo paccoide, non so se si vede, eccolo qui, che è il mio nuovo, la mia nuova postazione, il mio nuovo tavolo. Ovviamente, come potete vedere qua dietro c'è il griskin che cambia colore, però, ecco, mi stanno arrivando i pezzi, abbiamo ordinato le sedie, questo, il tavolo. Poi mi dovrebbero arrivare altre cose, le luci. Facciamo così. Io stasera, alle 22, circa, alle 22, facciamo una bella live. Ok, ragazzi, quindi mi raccomando, restate sintonizzati. Facciamo una bella live in cui monto il mio nuovissimo tavolo da gaming. Quindi, la live durerà probabilmente un paio d'ore, quindi fino a mezzanotte. Ragazzi, mi raccomando, state sintonizzati. E andiamo belli sostanziosi per settembre che se ritorniamo con le live. Sì, signori, signori, ragazzi, nutritivi, sostanziosi, ci becchiamo. E che cos'è sta cosa?